Conto alla rovescia per il Crotone Carnival Week 2017, maschere in mare dal 21 al 28 febbraio per la festa più attesa dai bambini nella città, simbolo della vela. L'evento è organizzato dal club velico Crotone insieme ai numerosi partner e propone un ricco contenitore di eventi musicali, rappresentazioni teatrali, arte, parate di carnevale, iniziative delle scuole superiori crotonesi, ma anche regate e straordinari spettacoli in mare. Crotone è capitale internazionale della vela con una regata affollatissima, abbiamo già 278 iscritti da 11 nazioni, ma anche con concerti, opere teatrali, presentazioni di libri, all'insegna dell'ospitalità e dell'attrazione di appassionati di vela, di appassionati di mare, ma non solo, di turisti che vogliono semplicemente scoprire la Calabria e che hanno l'opportunità di farla a febbraio, in un momento nel quale, peraltro, proprio grazie a questo evento, registriamo il tutto esaurito negli alberghi e nelle strutture ricettive. Da Simone Cristicchi all'Orchestra Giovanile della Calabria, dalla Compagnia del Teatro della Maruca allo scrittore Domenico Dara, tanti saranno i protagonisti della settimana blu di Crotone e ci sarà anche Gerardo Sacco con il libro autobiografico Sono Nessuno. Sono orgoglioso di far parte di quel gruppo di calabresi, insomma, che possono presentare qualche cosa di positivo a tutta questa gente che viene in Calabria, ma soprattutto chi mi conosce sa quanto amo la mia terra.